Ma in Pietro, parla. Ragazzi siamo in cima alla marmolada, 3.200 metri, giornata veramente bellissima. Quasi, quasi bellissima. Potete vedere lo splendido panorama che è io. Ci circonda. Il nostro sfondo. Siamo rimasti in fuochi oggi. Purtroppo i nostri amici sono tutti a casa nel letto, un po' in comoda io di sera. Io e Moreno invece non abbiamo mollato, abbiamo sciato fino all'ultimo giorno. Una dedica speciale al mio cusino Roberto e spero un giorno di portarlo qua in cima anche lui a scinare. Grande Roby! Ciao Roby, non mollare mai. Io mi ritiro per il mio frutto. Ciao, ciao, ciao.